ciao a tutti e buona domenica a tutti inizia il primo video dedicato e questo video questo gatto e vinci ce l'ha chiesto lucia caccianiga spero che stai guardando questo video e speriamo che ci porti fortuna prima da grattare vediamo il banco mezzo punto un 5 6 dobbiamo battere 6 un 4 mezza figura e mezza fu niente 5 2 3 5 5 e mezzo niente c'è mai trovare 7 e mezzo di sotto mezza 3 un 4 ci serve 7 e mezzo grande lucia e visto abbiamo vinto scrivi cosa tu sei visto sto video e abbiamo vinto 7 euro buoni 7 euro allora lanciamo questa nuova serie ogni domenica porterò un vino video dedica quindi scrivete qua sotto quale grattevinci vorreste e io ve lo porterò e niente ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi ciao a tutti un bacio a tutte